Fabio Campanaro, se all'inizio campionato ti avessero detto che il Gela avrebbe conquistato questi punti e si sarebbe trovato in piena zona playoff se vogliamo, ci avresti creduto? Ma per come è andata l'ultima parte della preparazione con tutte le vicissitudini che ci sono state avrei fatto fatica a crederci, però dopo quello che è successo abbiamo costruito un ottimo gruppo e abbiamo lavorato settimana dopo settimana e credo che questi otto punti sono tutti meritati Domenica scorsa è arrivato un pareggio che se vogliamo ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive però lo diceva anche ieri il vostro tecnico Invantino, lo ha ribadito il direttore sportivo Martello è un pareggio che equivale ad una vittoria perché avete combattuto contro una grossa squadra Sì, abbiamo studiato bene la squadra durante la settimana, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato meglio di loro Certo, c'è il rammarico per aver perso due punti perché noi giochiamo sempre per ottenere il massimo però se si pensa che questo punto è stato fatto una delle squadre favorite per la vittoria del campionato credo che il bicchiere si può considerare mezzo pieno E adesso arriva se vogliamo la terza trasferta consecutiva Domenica prossima giocherete a Gragnano nel Napoletano, cosa temete di questa trasferta? Ma diciamo che tutte le partite sono difficili lo dimostrano i risultati che andiamo a vedere ogni domenica sera dove nessuna partita è scondata sembra una trasferta lunga, insidiosa sono squadre che fanno queste categorie da parecchi anni non dobbiamo completamente sottovalutare questa squadra nonostante abbia solamente due punti in classifica Non giocare al Presti vi penalizza? Credo che domenica ci abbia penalizzato parecchio Però si può ritornare a giocare al Presti fra due domeniche e in quel caso ci sarà la sfida, il Big Match con DJ Virtus Infatti speriamo di poter giocare nel nostro stadio e avere l'apporto dei tifosi che è fondamentale Ma questo gioco dove può arrivare in tutta sincerità? Ma per adesso noi ragioniamo settimana dopo settimana stiamo facendo molto bene speriamo di dare continuità a questi risultati poi si vedrà